siamo qui in preparazione al mercato di cesenatico guardate adesso stanno preparando tutto con calma adesso vi faccio vedere questo banco guardate che bella uva allora da dove proviene l'uva ce lo dite allora la l'uva della puglia clementini senza semi naturali in italia castagne rigorosamente di selva piana fondo toscano perché quelle di selva piana le avete finite tutti perché quelle di selva piana sono buonissime noci noci francesi e poi cachi nostrani guardate i cachi buonissime poi che cosa c'è qua cipollina questi sono i ravanelli che si mettono con l'olio e di dove sono si dupano nell'olio lassiali lassio 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 qui abbiamo tutta tropea abbiamo sicilia che abbiamo tutta l'italia in un banco pelati 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 fagiolini fagiolini nostrani perfetto ancora i fagiolini amodì è caldo quindi ancora i fagiolini ci sono poi ci sono i cavoli roccoletti scusate io proprio di frutta e verdura infatti ok ok peperoni cardi non mi sono sbagliata cardi ecco cardi di cesena anche le mele sono tutte nostrane di bulgarno le mele quelle adesso dopo le andiamo a fare rivedere i carciofi queste le porta tutti il contadino guardate che mucchia di spinaci bellissima tutti dai contadini qui della romagna perfetto andiamo ad analizzare dopo una schermata così le mele le mele di cesena adesso stanno preparando i prezzi li sta mettendo adesso ragazzi io sono di savignano sul rubicone faccio di magalotti di cognome magalotti è nato il ceppo in romagna fanno la festa a fine giugno allora le mele di bulgarno quale sono ecco queste sono di bulgarno che cesena perfetto queste sono quelle buone buone da cuocere anche nel forno mele faceva tante castiglione di ravena le faceva la mia mametta quando ero piccolino mi faceva sempre quelle nel forno della stufa possiamo andarvi a far vedere un altro banco perché a cesenatico ce ne sono di belli anche qua dove siamo dove siamo dove siamo stanno preparando anche qua posso far vedere la vostra bancarella ai nostri telespettatori guardate anche qui cacchi belli colorati sugosi questi con il pane imbevuto che goduria i clementini senza semi sì bellissimi guardate che belle anche con le foglie così che adornano uva di uva di uva delle puglie guardate 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 qui siamo tutti guardate che carciofi carciofi allora uva della puglia noci noci dalla francia noci dalla francia le castagne di selva piana di selva piana qui hanno le castagne di selva piana la le avevano finite invece qui le abbiamo ancora selva piana il cuore delle castagne è un piccolo cuore anche mio a selva piana carciofi che li stanno preparato guardate che marea di carciofi carciofi di dove carciofi sardegna 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 ecco carciofi dalla sardegna cardi di pinarella di cervia ragazzi fagiolini fagiolini di gatteo gatteo terra si perché i fagiolini non crescono nella nel mare del mare allora fagiolini di gatteo ragazzi la romagna è qui vi aspetta da cesenatico i cavoli e i finocchi di gatteo sempre gatteo a mare quindi finocchi gatteo a mare fagiolini gatteo terra poi e zucchine zucchine dove le abbiamo prese allora il padrone dei fagiolini zucchine quindi sempre gatteo terra quindi poi pomodorini pomodorini ali deve ancora guarda la fattura quindi perché sì certo perché con calma stanno preparando io sto disturbando praticamente in produzione di tutto queste che si saltano in padella fanno il loro queste sono le nostre vostre di da dove vengono da sorrivoli cesena colline di cesena queste saltate in padella così fanno il loro sughino e sono eccezionali poi qui abbiamo mele arance le mele tutta roba nostra colline di cesena quindi ragazzi noi vi aspettiamo perché la frutta la verduna e preparazione dal mercato di cesena